cari amiche ed amici qui un'altra volta il vostro sangue già che vi parla dal suo canale di youtube se no da dove vorreste guardarli nel canale di un altro beh è già da due giorni che volevo fare questo video ma lo faccio solo adesso perché solo adesso tempo allora la conta del 3 2 1 il tema del giorno il tema del giorno due giorni fa estremisti islamici o islamisti per conto degli essi sono entrati in una chiesa nel nord di francia e hanno sforzato un prete durante la messa e ferito degli ostaggi con un cortello è un gesto di estrema follia che non so neanche come descrivere sempre che si possa descrivere un qualche cosa del genere giusto poi in normandia che 70 anni fa conobbe la follia della seconda guerra mondiale che fu teatro di uno dei più grandi sbarchi di truppe quindi con conseguente conflitto ben ricompressionante adesso sugli stessi lidi sulle stesse terre si ripropone un genere di pazia ancora più folle se possibile e quindi sono strumento riguardo al fatto che si pensava che certa violenza fosse superata e invece si ripropone una e un'altra volta almeno il territorio europeo la violenza oltretutto non ha giustificazioni non si può giustificare in alcun modo ma francia in modo particolare ha un passato coloniale turbolento e violento non ci scordiamo quello che è successo durante i moti insurrezione a listici e indipendenti indipendenti stici algerini negli anni 50 e 60 il mitico grande de gaulle che liberò con la resistenza la francia occupata dai nazisti che aveva formato la repubblica di bc represse con mano con pugno di ferro l'insurrezione indipendenti stica algerina quindi basta cercare su wikipedia per vedere come hanno cercato di sopprimere l'indipendenza algerina che era algeria considerato territorio francese certo nulla giustifica la violenza però di quella violenza colonialistica francese in algeria non se ne parla sarebbe arrivato il momento da parte dei francesi di fare un mea culpa e adesso sembra che i nati di seconda terza quarta generazione non solo algerini ma musulmani abbiano dei rancori chissà perché poi con questi gesti di pazzi isolati ma in francesi in algeria non erano pazzi isolati erano pazzi organizzati è veramente bisogna riportare dei equilibri geopolitici che sono persi l'unione europea saprà reagire organicamente a tutti questi attacchi ogni paese dovrà andare avanti per conto suo come si è fatto fino adesso perché a livello di coordinazione internazionale interna l'unione europea lascia molto desiderare e più un'unione economica europea che non un'unione geopolitica comunque forno ogni dubbio quest'ennesimo attacco lascia sgomenti alibiti a dove si arriverà bene non lo so questa era una considerazione al freddo ho aspettato due giorni prima non potevo però secco in parte non mi meraviglio dati precedenti colonialistici dei francesi in algeria e nel maghreb di cui ho fatto altri video quindi se siete interessati a rivedere le mie considerazioni sul tema della colonizzazione francese del continente africano guardatevi i miei video precedenti comunque ai resistenti ai ribelli che volevano l'indipendenza anche in algeria i francesi prima gli tagliavano le gonadi li mettevano in bocca poi tagliavano la testa e quindi guardate le foto di quel periodo dove c'erano dei giornali francesi della regione straniera che affinavano testi e li tenevano con come trofei ci mettevano anche i piedi sopra o le metteranno in stacchi per esporle meglio quindi sono stati molto violenti e repressivi i francesi in algeria e nel maghreb come anche gli ingressi adesso ci tocca soffrire questi pazzi che sporadicamente ci attaccano vabbè con questo comunque esprima il mio accordoglio per la famiglia del prete speriamo che non ci sia una recrudescenza di violenza tale da scoppiare la vita in italia in tutta europa rivederci cari amici ed amici che mi seguite in youtube qui ancora una volta il nostro sante gianna questo video sarà molto breve è stata una mia esternazione così ed alla prossima ciao 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 ciao